E quindi siamo tutti ragazzi, bentornati su P1Gamers Oggi siamo qui con il quarto episodio di Unmetal Io direi di fare subito X Ripartiamo dalle fogne E... ehi Non posso uscire Ah, perché chiaramente noi siamo entrati da una fogna Ma questa porta è al piano... È al piano di sopra Ok, allora proseguiamo di qua I tasti? Ok Ah, è finito il livello Mi aspettavo, non so perché, ma mi aspettavo proseguire Pezzo di merda Beh, se non torna Dai, dai Qua si può andare via abbastanza speedrun in realtà, vedete Questo che vorrebbe esistere Nota che sai bene il percorso Ma che stronzo che sono Questo che vorrebbe esistere Che cretino Che cretino Ho il cane che fa Ora Non mi freghi due volte Qui, non so perché, ma mi immagino ne verranno fuori uno smardaro Eh Ma nessuno Cioè io speravo di non trovarmi i ratti di prima e adesso mi sa che ho fatto peggio It was horrible Felt like I was a Johnny Teichhorn Come un lira No Oh Ma 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 la muschetta è bene il Questo senza parole Ah Ah, è distratto? Ma è stato tipo... Ah, devo sprecare un maliket! Snike! È stata tipo la cosa più bella di sempre! Ancora fusti! Ma... Allora, io vado perché c'è un WC Però voglio finire le fogne sotto Non ho nemmeno avuto la necessità di usare il vasino in realtà in questo episodio Quelle casse le apriamo dopo Perché ho trovato altri fusti? Non ho più forse il mio bancale? Sì, e perché ancora fusti? Vediamo Abbiamo trovato un lanzafiamme Però ha il... Il contenitore della benzina danneggiato, rosicchiato Forse possiamo combinarlo col fusto Ha bisogno di gas, gas, gas Qua, certo, qua non è solo citazioni a Metal Gear Qua è citazioni a tutto Basi meme Giochi Film Qua è gas, gas, gas Dei initial D Cioè, no, di initial D è l'anime Vabbè, dell'anime, no? Vabbè E so, tre di benzina Immagino che posso Io ho combinato la benzina perché ne avevo tre Quindi adesso l'ho caricato un po' Come faccio a cambiare l'arma? Ah, posso metterla nei tasti rapidi? Eh, la mettiamo sopra questa Allora Quindi bende Merit Fionda Però in realtà la fionda è sempre equipaggiata Eh, ma per fare questa cosa Non so perché ma anche questi giochi Trovo sempre più comodo Entrare nel menu e prendere l'arma Piuttosto che avere un tasto rapido Vado in confusione Allora Questa cosa Ha una barra della vita L'avevo anche detto Dovevo farlo con calma Ma io no 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 Se stiamo avanti ho perso una strada No, non posso Non posso andare su Non posso andare su senza aver esplorato la base Perché magari di là se va a finire il livello E manca una base Non posso schipparla Allora Ottimo Ci prendiamo i nostri medikit Ok, lasciamolo lì Ci sono due porte Io direi di andare prima sopra Serve una chiave che non abbiamo E questo è il bagno Non serve nemmeno Cercarlo più di tanto Sapete cos'è questo? Bagno delle donne Bagno degli uomini Da cosa capisco che questo qua è il bagno degli uomini? Perché ha la scritta in blu E perché c'è solo la latrina Quello di prima aveva anche i bici E allora Era l'unica via possibile Dai Dai Ma Ma Mi ammazzo anch'io Cazzo 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 Cosa ho appena visto Adesso muoio Il souls player che è in me Lo sapeva da prima che stavo per morire Il fatto è che arrivano da entrambi i lati E il mio coso si sugli scaldi in un secondo Non posso correre Devo ucciderli con calma Gradirei non lo rifacessero Vabbè entrambi i lati Dai Madonna di Dio Beh sono un espone infinito Guarda quello sotto i piedi Che non posso colpirlo Eh bisogna ucciderli E poi con calma andare a fare la gomma Comunque nei videogiochi Il lanzaframma è sempre una merda E l'ho anche in un metal Alzo due vie Posso andare sotto Ah tanto qua arrivano da tutte le parti Devo curarmi Oh usa le bende por Non hai l'emorragia Me lo concedete un test A posto Spero di che questo livello delle fogne finisca la svelta Non perché non mi sta divertendo Ma perché le fogne Ah guarda dove salvava Cosa Jesse Fox contro Saver Junk Siwa Junk Oh no Oh no Ricordiamo che questa cosa di scogliattoli me la son voluta io Me la son voluta io Dicendo Che non c'erano nemici E' debole solo al fuoco Oh no Vada per una via di mezzo stavolta Quattro paia Oh Dai Dai Oh no romperà Romperà la carne Io devo curarmi Ok Dai Ora devo curarmi Prego Dio del videogioco Fammi curare La cura è lenta Devo entrare nell'ottica E' questo che mi frega spesso Che non è una cura istantanea Non è una razione di Metal Gear Queste sono le Estus Di Dark Souls 2 Ok Lentamente ti cura Tanto ma lentamente Comunque La boss fight è finita Praticamente è finita Oh signora Cosa è successo adesso No No Ah buoni Porca I danni Porca droia No ma sei stronzo No Eh lo sapevo No No Ci muoio Ma quanti cazzo di colpi Devo dargli Basta Ma che stronzata Ma che stronzata Che cazzata Certo che fa danno Muori stronzo Guarda pure che ho sprecato In sta boss fight Basta ciao Arrivederci Ancora con sto cambio Sono lì da broccoli Dai Dai 0 su 2 segreti vorrei capire come si trovano forse erano quelle di stanze che non servivano a niente la terra del leone ma è Zanzibar se esco di qui mi sentono e io vorrei salvare ma il mio vasino è pieno ah vabbè cosa è questo? posso riaverla? grazie grazie questo mi serviva proprio subito bene ragazzi rompiamo i cessi un altro vasino wow svuotiamo l'altro salviamo e ora che abbiamo due vasini possiamo finalmente chiudere questo quarto quarto episodio ne ho girati due di fila e quindi non so più dove siamo e quindi ragazzi in questo episodio è finito nell'info box trovate il link a tutti i miei social e io direi che ci vediamo alla prossima sempre qui con B&Gamers con il prossimo episodio di ArtMetal grazie a tutti grazie a tutti